Continuano a moltiplicarsi gli appuntamenti fissi dell'estate del centro storico pesarese. Il martedì dedicato al San Pietrino Festival in piazzetta Toschimosca e domani, mercoledì 15 giugno, ripartono invece i mercoledì di Via Passeri. Terza edizione della rassegna estiva che porterà a vivere a pieni polmoni tutte le declinazioni di una delle arterie stradali più caratteristiche del centro storico. Coinvolte 22 attività all'insegna della convivialità di ristoranti, enoteche e drink bar affiancati alle botteghe storiche, alle attività artigianali e commerciali che resteranno aperte ogni mercoledì sera fianco a fianco ad un'offerta culturale variegata. Su tutte il coinvolgimento del Conservatorio Rossini e della Biblioteca San Giovanni e il Museo Rossini. A coordinare il tutto la sempre più strutturata associazione di promozione sociale Centro Commerciale Naturale Via Passeri, Itzpesaro. Questo mercoledì inizierà una bellissima rassegna estiva che coinvolgerà tutte le attività commerciali e ristorative di Via Passeri in collaborazione con attori importanti come il Museo Nazionale Rossini, la Biblioteca San Giovanni, la Cassa di Risparmio e l'Associazione Libera Musica. L'obiettivo è quello di rendere questa via un contenitore di arte, di cultura, di musica, di spettacolo e fare in modo che la città possa usufruire di tutta quella che è la varietà offerta dalla via. Ogni mercoledì in collaborazione col Conservatorio Rossini ci saranno performance itineranti a cura degli artisti, degli studenti, giovani talenti del Conservatorio che appunto faranno una performance che si dividerà in tre momenti e che accompagnerà diciamo tutta la via dalla cena fino al dopo cena. I ristoranti avranno la possibilità di mettere dei tavoli all'esterno, la via sarà chiusa al traffico e quindi si vivrà l'estate pesarese proprio a partire da questa via così importante storicamente per la città di Pesaro. L'associazione Via Passeri di Pesaro ha amplificato la sua promozione anche con la creazione del portale viapasseri.com una via pronta ad una grande estate già partita con il partecipato rodaggio di Cali City di sabato scorso. Via Passeri è stato il primo centro commerciale naturale della città e da questo progetto è iniziato un lavoro sinergico tra il comune, le varie associazioni che fanno parte della via e le attività commerciali del posto. Sono stati molto disponibili anche le attività da subito perché ricordo quando due anni fa era uscito il bando velocemente in dieci giorni abbiamo dovuto creare il progetto c'è stata grande disponibilità da parte loro ma questi poi sono i risultati sono i risultati che quando una via insieme a tante attività che sono anche diverse l'una dall'altra creando rete è un obiettivo che insomma fa vincere perché ormai la via Passeri sta diventando un bel gioiello della città come appunto all'inizio mi stavi dicendo è un salotto all'aperto.